Ultimi preparativi a Palazzo Ducale di Urbino dove domani, martedì 18 giugno a mezzogiorno, la Galleria Nazionale delle Marche aprirà le porte all'evento più atteso del suo 2024, la mostra Federico Barocci Urbino, l'emozione della pittura moderna. Barocci nacque proprio ad Urbino nel 1535 e nella sua città trascorse la maggior parte dell'esistenza e l'annessa produzione artistica che lo resero il più richiesto autore di dipinti sacri della seconda metà del Cinquecento. Mai la Galleria Nazionale delle Marche gli aveva dedicato una mostra monografica che ora viene resa possibile grazie ai tanti prestiti provenienti dai principali musei nazionali e internazionali che arricchiscono la collezione già importante del Palazzo Urbinate. La mostra è curata dallo stesso direttore della Galleria Luigi Gallo assieme ad Anna Maria Ambrosini Massari, Giovanni Russo e Luca Baroni. Dopo 400 anni le pare d'altare di Federico Barocci da Roma e da Perugia stanno tornando a Urbino. Abbiamo appena fatto la movimentazione della straordinaria deposizione di Cristo dalla cappella del Duomo di Perugia. L'opera è nel camion e comincia il suo viaggio per tornare a Urbino dove è stata realizzata molto tempo fa. Sarà visibile fino al 6 ottobre è una grande emozione questa mostra per raccontare la storia dell'opera del grande pittore di Urbino Federico Barocci. Grazie per la visione!